SIGGLI E SEQUESTRI Proprio con denaro, frutto di attività illecite. A due imprenditori brindisini, già sotto la lette di granimento delle forze dell'ordine per i reati di riciclaggio di denaro legato al contrabbando internazionale di tabacchi, le fiamme gialle di Brindisi avevano sequestrato la ditta di l'Europlast ed altri beni finanziari. In quel fragente le indagini dei militari avrebbero accertato come giro cannone si sarebbe servito del figlio Oscar come prestanove per finanziare la ditta con circa 500.000 euro tutti i proventi di attività illecite. Oggi invece, a finire nel mirino delle fiamme gialle, sono tutte le proprietà e beni appartenenti all'intera famiglia. Nella fattispecie una villa al casale, quattro auto, vetture, un rimorchio, una moto e un gommone. A insospettire i finanzieri era stata l'eccessiva disparità tra i redditi dichiarati dalla famiglia e l'effettivo valore patrimoniale. Un impero quindi non esattamente lecito e frutto di attività vicine all'operato malavitoso. Questa l'accusa e tanto è bastato per applicare alla lettera la normativa antimafia con sequestri finalizzati alla confisca.